Il canestro è il canestro, il reverse Nel contropiede Sassone della scappa perché non segnava più tanto quella difesa schierata Adesso è tornata a segnare Calma e chiama proprio Percinsic per giocare un gioco a due Non accetta il blocco, accetta invece il reject Poi un po' di confusione e va su con un reverse difficilissimo Francesco è bravo No, questa è una squisita Dentro il fondo del campo Ravaioli Ravaioli E allora Giori Gotti che prova a organizzare qualcosa in attacco per Trento E arriva l'assist di Ravaioli Ravaioli Altri punti L'ultimo possesso anche perché il canometro di 24 dice 7, 6 Ravaioli entra dentro contro tece dei giocatori Segna qualcosa di incredibile Ravaioli 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 Ravaioli